La trattativa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro dei metalmeccanici è partita in salita. Ne è convinto Roberto Di Maulo, leader della Fismic Compsal. Noi siamo stati al primo incontro il 5 novembre, la settimana scorsa. Mi sembra che inizi sotto i peggiori auspici perché la FIOM è assolutamente una piattaforma ultratradizionale, ma anche FIM e WIM hanno presentato una piattaforma ultratradizionale. Gli industriali presentano il loro conto che è un conto assai salato. La mia previsione è che di questo passo purtroppo il contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici non sarà mai più rinnovato in questa forma e sarà rinnovato chissà quando, chissà come, chissà da chi nel futuro.